4 le nuove aree interne in Sicilia arriva infatti via libera dalla conferenza Stato-Regioni a seguito del parere del Comitato Tecnico per le Aree Interne, presieduto dal Consigliere del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Domenico Gambacorta. Approvate quindi le aree proposte dalla Regione Siciliana nell'ambito della programmazione dei fondi europei 2021-2027. 52 comuni coinvolti, 16 per l'area interna di Corleone, 11 per Bronte, 14 per l'area di Troina, 11 per quella di Mussomeli. E cioè Acquaviva Platani, Buon Pensiere, Cammarata, Campofranco, Castel Termini, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Giovanni Gemini, Sutera. Valorizzare i comuni interni con interventi che vanno dalle politiche sociali a quelle culturali, dalle infrastrutture alla riqualificazione dei centri storici, sottolinea il Presidente della Regione Nello Musumeci, è stato uno degli obiettivi del mio governo fin dall'insediamento. Le nuove risorse finanziarie a disposizione serviranno per potenziare ancora di più il contrasto alla marginalità di territori che rischiano di spopolarsi. Per questo voglio esprimere un apprezzamento al Ministro per il Sud e la questione territoriale Mara Carfagna, aggiunge. Un ringraziamento anche all'assessore Gaetano Armao, coordinatore della Commissione Affari Europei della Conferenza delle Regioni per l'impegno profuso. Previsti dunque finanziamenti per un importo massimo complessivo di circa 450 milioni di euro, per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo sociale, si legge nel comunicato, economico e ambientale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree non urbane. Il Comitato ha anche proposto di destinare a Corleone e Bronte le risorse statali per la SNAI, 4 milioni di euro per ciascuna area. In corso invece l'iter per il riconoscimento di tali risorse anche ai 14 comuni dell'area di Troina, dopo il via libera sull'integrazione della provvista finanziaria da parte della Conferenza Stato-Regioni.